Ok, allora oggi dobbiamo un attimo concludere un paio di argomenti semplici che abbiamo lasciato in sospeso rispetto all'unità P3 e poi invece ci addentreremo dentro l'unità P4 che è sicuramente più interessante. Allora, un paio di capitoletti, uno alla fine, qui la slide 92 e l'altro invece verso l'inizio che riprenderemo dopo. Su questo in realtà molto l'abbiamo già fatto in termini di esercizi. Vi ricordate la settimana scorsa abbiamo cercato di analizzare delle stringhe di testo che avevamo acquisito con la funzione input per capire se queste stringhe fossero scritte nel modo corretto. Quindi c'erano due punti, c'erano le cifre decimali, la lunghezza era corretta, eccetera, eccetera. Ecco, in questo paragrafetto che troviamo qua ci riassume quelle che sono le funzioni che possono essere utili in questi casi, molte le conosciamo già. In più un operatore nuovo che non avevamo ancora citato prima, anche se qualcuno ha visto che negli esercizi l'ha già usato, ma giustamente va benissimo, che è l'operatore in. L'operatore in è una sorta di operatore che ci permette di verificare se una stringa è contenuta all'interno di un'altra stringa. Noi avevamo usato la funzione find, ricordate, per capire se una stringa era contenuta all'interno di un'altra stringa e questo restituiva la posizione in cui questa stringa era presente, quindi a partire dalla posizione 0, 1, 2, 3 e così via. Se a noi però interessa solamente sapere se c'è o se non c'è, possiamo usare un'espressione più semplice, semplicemente usando l'operatore in. L'operatore in si interpone tra due stringhe, la stringa, diciamo così, corta e quella lunga, e si chiede, esiste questa stringa way all'interno della stringa name più lunga, che in questo caso, poiché conteneva John Wayne, la sequenza w maiuscolo, a minuscolo, y minuscolo, effettivamente compare, compare qui, a partire grosso modo da metà stringa. Allora in questo caso questa condizione way in name viene tradotto in true, in vero, perché la sottostringa è presente. Non ci dice dove è presente perché magari non ci serve, però a questo punto noi lo potremmo tranquillamente usare dentro un'istruzione if way in name, due punti, faccio qualche cosa, altrimenti faccio qualcos'altro. L'operatore in, così come l'operatore di confronto e di ricerca come find, lavorano per caratteri e come sempre il carattere maiuscolo e il carattere minuscolo sono considerati diversi. Ok? Quindi anche per rispondere a Christian, la w maiuscola e la w minuscola sono due lettere distinte, indipendenti, non c'entrano niente. E quindi se le due stringhe fossero, diciamo così, contenesse la stessa parola, ma fossero scritte con maiuscole e minuscole, combinate in modo diverso, verrebbero considerate come non appartenenti. Quindi per poterla, diciamo così, confrontare, se io volessi confrontare due stringhe a meno delle maiuscole, quindi considerandole uguali anche se ci fossero le differenze tra maiuscole e minuscole, quello che mi converrebbe fare è prendere la stringa 1, convertirla tutta in minuscolo, la stringa 2, convertirla tutta in minuscolo e poi confrontare le stringhe stesse. Direi che possiamo, se vogliamo anche vederlo dal vivo, possiamo fare, qui ha cambiato un pochino la videota, stringhe, confronti, stringhe, ci facciamo un programmino di prova, la faccio su replica, ogni tanto che... Niente. Oggi c'è qualcosa che ci rema contro. Quindi se noi volessimo confrontare, dicevamo due stringhe, diamo di tempo che parta, possiamo chiamarla stringa 1 uguale... Appunto qui c'è John Wayne, con la Y, e la stringa, quindi facciamo attore, e supponiamo che un utente stia cercando su Netflix i film di John Wayne, e quindi lui immette alcuni caratteri che sono solamente W, A, Y. E allora noi, per far vedere tutti i film di John Wayne, dobbiamo andare a vedere se il carattere è contenuto dentro l'attore. E allora a questo punto dirò che l'ho trovato, altrimenti dirò che print non trovato. Ok, quindi questo dovrebbe funzionare dicendomi trovato, perché come diceva l'esempio della slide, W, A, Y è compreso dentro Wayne, mentre invece se l'utente scrivesse la W minuscola, allora mi dovrebbe dire che non l'ha trovato. a questo punto, e questo funziona, diciamo così, se vogliamo un confronto esatto carattere per carattere, è il modo normale di funzionare. Quindi usiamo questo, noi la settimana scorsa abbiamo già fatto esercizi di questo genere, scrivendo attore.find di car diverso da meno 1. Questo l'avevamo scritto. Usando il metodo find delle stringhe, che ci permetteva di trovare dove fosse la sequenza di caratteri all'interno dell'attore, sapendo che se veniva trovato da qualche parte, il risultato della funzione find era un numero completo a 0 e la lunghezza della stringa meno 1, vedete che qui c'è di nuovo la documentazione che salta fuori online, se invece non fosse trovato, il risultato ritornato dal metodo find sarebbe stato meno 1. Prof, possiamo fare domande? Sì, certo, certo, potete fare domande sulla chat oppure a voce, sulla chat forse è più comodo, ma tranquillamente. In questo caso, se noi scrivessimo car uguale due lettere diverse, attaccate, due lettere diverse di due parole diverse, in questo caso tipo H, Y, se le scriviamo attaccate, che succede? Lo trovo o non lo trovo? Così? Sì. No che non la trova, lei cerca le sequenze identiche, ok? Quindi trova la sequenza J, J-O, O-H, H-N, H-N me la trova, ma che ne so, O-N, no. Cioè non va a cercare i singoli caratteri, ma va a cercare se c'è una sequenza identica al suo interno. Ok, grazie mille. Ci mancherebbe. Allora, se invece volessimo, se volessimo, allora, scusate, torno indietro. La settimana scorsa scrivevamo così perché non avevamo ancora conosciuto l'operatore IN. Chiaramente questa seconda scrittura qua, la rega 5, è molto più chiara, quindi adesso in avanti cercheremo di scriverla così, ma esattamente funziona nello stesso modo. Cioè usa un metodo simile a find per cercare una sequenza consecutiva di caratteri esattamente identici nella stringa più grande. Se invece volessimo, torniamo al nostro dubbio, dire che questo way anche se è scritto con la minuscola va bene lo stesso, come potremmo fare? Non so se Antonio, quando ha scritto si può utilizzare or, si riferiva a un'idea per risolvere questo, però ho capito, ma sia Antonio che Chiara pensano che la seconda variabile way sia già nota. Allora io adesso ve lo modifico e dico che i caratteri da cercare me li dà l'utente. Cerca due punti. Adesso cosa succede? Che se l'utente mi scrive way con la maiuscola gli dico che l'ho trovato, se l'utente mi scrive way con la minuscola gli dico che non l'ho trovato. E allora a questo punto sapete che il programma non sa cosa scriverà l'utente, perché l'utente potrebbe invece anche scrivere cose completamente diverse. x, y, z e non lo posso sapere. Quindi non posso prevedere le varie varianti. Ricordiamocelo sempre, adesso noi mettiamo dei valori di esempio qua per capire come funzionano le istituzioni del Python. Però normalmente il programma, i dati li conosce solamente quando li legge dall'utente che li utilizzerà. Quindi way maiuscolo or way minuscolo non si può scrivere. Perché non lo conosciamo semplicemente. Allora, prima di vedere la risposta, rispondo solo alla domanda di Lorenzo che diceva ma potrei anche mettere una lettera sola? Cioè, c'è sicuramente. Posso mettere una lettera sola, ad esempio l'h che mi dice che c'è, perché ovviamente è dentro join, oppure la z che mi dirà che non c'è, perché ovviamente non compare una stringa. Per assurdo potrei anche mettere niente, una stringa vuota, è chiaro che qua in questo caso fa un po' ridere, però se io lo rifaccio, cerca, batto invio, se batto invio, di fatto car è diventato la stringa di zero caratteri, la stringa vuota. Allora mi chiedo, la stringa attore, il John Wayne, contiene al suo interno una stringa lunga zero caratteri? Sì, sì, è così, è come dire che, per dire, l'insieme vuoto è un sotto insieme di un altro, di un qualunque altro insieme, no? È chiaramente un caso del genere, de genere, però è un caso, diciamo così, che si può verificare. Quindi, l'operatore in ovviamente funziona se la prima stringa è più corta della seconda, se fosse più lunga non c'è ovviamente verso, non c'è ovviamente possibilità che possa essere contenuto, ma se è più corta della seconda, tra carattere, due, uno, zero, no? Funziona, diciamo così, correttamente. Per tornare al nostro, noi vogliamo, al nostro problema, noi vogliamo che l'utente possa eventualmente scrivere anche Wayne con la W minuscola. Allora, il trucco che posso usare potrebbe essere quello, come ha già suggerito qualcuno nella chat, di convertire sia l'attore che l'input dell'utente tutto in minuscolo, prima di fare il confronto. E quindi io non mi chiedo se l'input dell'utente, i caratteri, sono compresi dentro l'attore, ma se l'input dell'utente, convertito tutto in minuscolo, è compreso dentro la stringa dell'attore, convertita tutta in minuscolo. Quindi a questo caso, car. E come faccio a convertire una stringa in minuscolo? Lower, è la funzione, il metodo che possiamo usare, attore.lower. E la documentazione ci dice che ritorna una coppia della stringa convertita in minuscolo. Ok? Quindi in questo caso, se io faccio run, e io scrivessi way minuscolo, me lo trova, mi dice che l'ha trovato. Perché in realtà, sta cercando car era way con la minuscola, car.lower è uguale a se stesso, perché converte in minuscolo una cosa che già lo era. Ma lo vado a controllare in questa stringa, attore.lower, che è attore John Wayne, ma attore.lower, se riesco a scriverlo giusto prima di stanotte, è così scritto con le minuscole. E quindi in questo caso la trova. Quindi se voglio, non c'è nessun operatore che mi dice fai il confronto a meno delle maiuscole, ma sono io che posso convertire le due stringhe che voglio confrontare, trasformandole prima di fare il confronto vero e proprio. Allora, se a questo punto l'utente può scrivere come vuole. No, non abbiamo il problema opposto. Io posso scrivere benissimo Wayne e tanto lui mi confronta il carattere way, che il mio carattere è tutto in maiuscolo. Ma io non sto confrontando car, sto confrontando car.lower, quindi anche l'input dell'utente viene convertito in minuscolo. Car.lower sarà way minuscolo. Quindi ho portato tutto in minuscolo e quindi qualunque sia la combinazione di maiuscole che è presente nel testo da cercare e qualunque sia la combinazione di maiuscole che è presente nel testo che stiamo cercando, in ogni caso viene tutto portato in minuscolo e poi viene fatto il confronto. Poi, aspetta, c'era anche una domanda che era interessante, quella di Simone, che diceva se io scrivessi tutto John Wayne non c'è problema. Ovviamente posso scrivere con le maiuscole o le maiuscole che voglio, ma John Wayne cosa ho sbagliato? Perché non lo trova? Ah sì, scemo, mi sono dimenticato il punto lower. Ho fatto casino prima e avevo cancellato lower per sbaglio. Ok. John Wayne. E quindi ovviamente lo trova, anche se la stringa che sto cercando è lunga esattamente quanto la stringa è da cercare e quindi in questo caso coincide con la stringa. ovviamente così come c'è lower c'è anche upper per convertire in maiuscola e sì, vi potete sbizzarrire a scrivere come volete, tanto alla fine, alla fine l'importante è che le lettere siano uguali proprio perché stiamo facendo prima convertendo in minuscolo e poi facendo il confronto. Cioè di fatto l'operatore di confronto non le vede manco le maiuscole che eventualmente siano presenti dentro le due stringhe da confrontare, perché le abbiamo abbattute prima, in un certo senso. Ok. Fatti vedere se c'è qualche domanda interessante, sono tutte varianti alla fine. Allora, quel punto esclamativo dopo il find mi chiede Gabriele, allora qui in questo modo alternativo di scriverlo, questo punto esclamativo qua indica diverso, non è un punto esclamativo ma è un operatore diverso. In Python diverso si scrive punto esclamativo uguale, cioè non uguale. E poi c'è il problema, è rimasto un problema però, che se uno scrive John Wayne, ovviamente non lo trova, anche perché non ho messo la Y. Cosa ho scritto? No, scusate, devo far run. John Wayne con lo spazio, anche tutto il minuscolo lo trova, ma se dimentico lo spazio, o peggio ancora, mettessi due spazi, non lo trova. Quindi in questo caso, dovremmo ancora, se ci interessa, chiaramente prima dobbiamo decidere che cosa vogliamo, quali stringhe consideriamo valide e quali no. Ok? Però in questo caso dovremmo, prima di fare il confronto, anche decidere di togliere tutti gli spazi, sia dalla stringa attore, sia dalla stringa di ricerca. Allora a questo punto, mettete tutto il minuscolo, tolgo tutti gli spazi, a questo punto lo troverò anche se ho dimenticato qualche spazio, oppure non ho messo di troppo. Chiaramente devo appunto filtrare gli input prima di fare il confronto. Ok, qui quando Lorenzo mi dice se scriva in corsivo non lo troverebbe, in realtà qui siamo in testo puro, testo di Unicode, quindi non esiste il concetto di corsivo o grassetto. In una finestra di terminale non possiamo cambiare il tipo di carattere, quel che conta è solo il valore del carattere, non ha uno stile grafico associato. Ok, chiudo solo con Matteo, perché è diverso da meno uno? Perché meno uno è il valore che ritorna la funzione find se la stringa non è trovata. Vedete qua la documentazione. Se per caso find cerca e mi restituisce la posizione in cui si trova la sequenza di carattere all'interno della stringa, se per caso non la trova, ritorna meno uno. E quindi se ritorna qualche cosa di diverso da meno uno vuol dire che c'era. Perché invece se tornasse qualcosa di uguale a meno uno voleva dire che non c'era, che non l'aveva trovata. Ok, questo è un operatore appunto in che semplifica semplicemente il lavoro che già sapevamo fare con find, però chiaramente può essere più semplice e onestamente molto più leggibile in un certo senso. c'è anche il contrario, c'è anche l'operatore not in che chiaramente restituirà vero o falso al contrario rispetto all'operatore in, quindi se not in ritorna vero quando la stringa non è compresa e viceversa. Quindi inverte, scambia l'if con l'es in certo senso. Ci sono altri metodi per andare a controllare le stringhe, ad esempio c'è un metodo che chiama ends with, cioè che controlla se gli ultimi caratteri, mentre find oppure in cercano la sottostringa ovunque, ends with la cerca solamente al fondo. Quindi gli ultimi caratteri sono così, ovviamente c'è anche starts with che cerca solamente i primi caratteri. E quindi se ci interessa verificare se le prime o le ultime posizioni contengono la sottostringa. Questa è una tabellina che ci riassume queste 4-5 funzioni di base che alla fine sono tutti parenti del find. Find è il caso più generale e gli altri sono dei sottocasi. Un'altra interessante è l'account. Ricordo che in chat in questa settimana è uscita la domanda ma come faccio a contare se ci fossero più volte i due punti come faccio a contarlo? Questo account è una sorta di find ripetuto. Cioè cerca se c'è una stringa e poi se la trova la cerca se c'è eventualmente una seconda volta eventualmente una terza e così via e mi dice quante volte l'ha trovata. Quindi possiamo capire se per caso una stringa contiene uno spazio se ne contiene due, se ne contiene sette facendo un count del carattere spazio e alla fine mi darà quanti spazi c'erano. Ad esempio se io cercassi la stringa attore perché scrivo sempre nel posto sbagliato attore abbiamo detto è John Wayne se cercassi attore.count di spazio mi dice quante volte compare lo spazio all'interno di quella stringa e in questo caso compare una volta sola. Se cercassi invece la n dovrebbe di comparire due volte perché compare sia dentro John che dentro Wayne. Quante volte compare un certo carattere o una certa sequenza di caratteri. Ad esempio ne la sequenza ne compare una volta sola. Quindi la regola generale chiaramente posso indicare un carattere solo posso indicarne più di uno ma chiaramente se ne indico più di uno devono combaciare tutti. La domanda di Luca mi chiede ma ends with quanti caratteri prende? Beh, quanti ne ho dati? Cioè attore.ends with se mi chiedo se finisce con e mi dice di sì. In questo caso controlla l'ultimo carattere. Se io invece ne passo due controllerà gli ultimi due. Quindi lui controlla tanti caratteri quanti ne ho specificati. quindi lui va a vedere se la stringa ha caratteri diciamo così allineando la destra rispetto alla stringa attore se gli ultimi sono identici. e la stessa cosa per stars che forse è anche più facile da capire. E poi ci sono i metodi che vanno a controllare la tipologia di caratteri che sono compresi all'interno di una stringa e quindi noi avevamo già visto la volta scorsa un isdigit o isnumeric che è molto simile a questa che controlla se la stringa è fatta tutta di cifre decimali. Poi per chi ha voluto approfondire un pochino di più abbiamo visto che ci sono tre metodi che si chiamano isdigit isnumeric e isdigital che in realtà hanno significati leggermente diversi ma dal nostro diciamo che differiscono solamente per il fatto che ci sono alcuni alfabeti che non sono quello latino che usano delle cifre decimali diverse. Cioè ad esempio se noi avete il 2 scritto con caratteri arabi non è è un numero è un numero ma non è un digit perché il digit fa riferimento solamente alle cifre latine ma diciamo queste distinzioni qua non ci interessano non le tocchiamo e quindi questo restituisce vero se tutte le cifre tutti i suoi dati i caratteri presenti dentro la stringa sono delle cifre numeriche quindi se io ad esempio avessi la stringa scrivo qua a destra 01234 mi chiedo isdigit e mi dice di sì se io invece avessi 012 spazio 34 mi dice di no perché questa stringa contiene anche lo spazio che non è una cifra e tutti gli altri funzionano in questo modo vanno a controllare carattere per carattere la stringa e verificano se ciascun carattere è della categoria che abbiamo chiesto quindi isdigit una cifra alfa una lettera alfabetica quindi tutte lettere da la alla z maiuscole o minuscole invece islower tutte lettere solo minuscole isapper tutte lettere solo maiuscole isalfa tutte lettere maiuscole o minuscole isalnum alnum sta per alfa numerico tutte lettere alfabetiche quindi è un isalfa oppor isdigit quindi può essere o lettere o cifre quindi abc123 è alfa numerico non è alfabetico perché contiene 123 non è una cifra non è numerico perché contiene abc e quindi ci sono le varie combinazioni c'è questa funzione strana ispace abbastanza rara restituisce vero solo se tutti i caratteri sono spazi spazi inteso in senso lato nel senso che anche il carattere di tabulazione è inteso come uno spazio anche il carattere di a capo è inteso come uno spazio però attenzione tutti devono essere ispace quindi questo qua non è che contiene uno spazio dentro non mi dice che è vera la funzione ispace la funzione ispace perché voi dite ma come c'è lo spazio sì c'è lo spazio ma c'è anche altra roba questa funzione è soddisfatta diventa vera solo se tutti sono spazi se tutti sono lettere alfabetiche abc 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 grande punto isalfa sì se invece slower no perché non è sufficiente che ce ne sia una o alcune ma tutte devono essere tutte invece devono essere soddisfare la condizione che viene richiesta qua quindi in qualche modo cerca una certa uniformità nelle cifre vedendo un po' di domande che sono comparse in chat il metodo count distingue tra caratteri minuscoli e maiuscoli assolutamente sì sì come tutti gli altri metodi di ricerca e quindi se io faccio count della E minuscola non mi conterà quante volte compare la E maiuscola Emanuele mi chiede come faccio inserire un float separato da virgola invece di usare la separazione tramite punto non puoi nel senso che non è un float in python in float devono essere separati da punto quello che puoi fare quello che puoi fare fatemi vedere se c'è qui no però c'è da un'altra parte esiste una funzione se non sbaglio di replace quindi facciamo io posso prendere una stringa per rispondere alla domanda di Emanuele che la posso leggere come 1,37 che chiaramente non potrò convertirla in float perché la virgola non è permessa però potrò fare numero punto replace virgola punto se non sbaglio sto andando a memoria sì quindi ogni funzione stringa applico il metodo replace replace vuol dire sostituisci sostituisci cosa? sostituisci tutte le stringhe che corrispondono a questa cioè la virgola con questo cioè il punto e a questo punto di questo signore se io sono sicuro che dentro c'era la virgola posso convertirlo in float quindi noi non siamo mai limitati da ciò che il linguaggio può fare nativamente possiamo sempre costruire la soluzione che ci serve dopodiché purtroppo in informatica il carattere corretto per indicare i numeri in floating point è il punto decimale non la virgola perché la virgola serve a tutt'altro ad esempio quando abbiamo funzioni con più parametri questi sono separati da virgola quindi per non fare confusione che differenza tra isdigit e isnumeric è complessa nel senso che in entrambi i casi cercano solamente valori dallo 0 al 9 la differenza è che una delle due se non sbaglio isnumeriche comprende anche i numeri diciamo così non scritti nel nostro alfabeto adesso sto cercando di andare indietro perché era una discussione che avevamo avuto credo di elaborare eccolo qua se chi è interessato può andarsi a vedere questo articolino qua che fa il confronto tra isdigit e isnumeric e che effettivamente ci dà alcuni esempi sul fatto che se io uso le cifre diciamo così normali le nostre sono assolutamente equivalenti ma io la funzione isnumeric tiene conto anche dei numeri scritti in sistema di numerazione che non sono nostri che non sono scusatemi latini quindi in questo caso credo che sia roba cinese in questo caso isdigit è falso perché isdigit considera solamente le cifre dalla 0 al 9 mentre invece isnumeric considera tutte le cifre numeriche che possono essere usate in qualunque tipo di linguaggio per i nostri scopi come vi ho detto prima sono assolutamente equivalenti ok in entrambi i casi se ci fosse un punto o una virgola o uno spazio vi dicono falso ok quindi servono solamente per riconoscere sequenze di numeri di cifre e quindi in qualche modo numeri interi positivi ci fosse anche un segno o meno davanti non funzionano ok vabbè poi ci sono alcuni esempi se andate indietro nella chat in discussione trovate altri esempi che sono saltati fuori nella discussione Alberto mi chiede se replace permette di sostituire anche con un insieme vuoto sì certo una stringa vuota è una stringa come tutte le altre poverina non trattiamola non emarginiamo le stringhe vuote e quindi se io questo replace vuole sostituire la virgola con vedete qua in basso a destra sto scrivendo con una stringa vuota aperto apice chiuso apice mi dà 137 cioè fa sparire il il punto e questo ad esempio ci dà uno spunto per correggere ancora il nostro programmino del John Wayne togliendo gli spazi prima dicevamo dovrei togliere tutti gli spazi però non vi ho detto come farlo adesso grazie alle vostre domande è saltata fuori il replace che avevamo già visto la volta scorsa e quindi possiamo usarla per togliere tutti gli eventuali spazi che l'utente abbia inserito all'interno della parola car attenzione qua come è scritto perché qui ho apice spazio apice cioè una stringa che contiene un solo spazio e qui virgola apice apice senza niente in mezzo c'è la stringa vuota ovviamente questo replace dovrò farlo sia sulla stringa da ricercare che sulla stringa ricercata e finalmente con questa ultima modifica il nostro John Wayne lo posso trovare anche tutto attaccato e anche solo imparziale se io faccio nw mi darebbe un match perché mi trova la n seguita dalla w e anche se in mezzo c'è uno spazio tanto l'ho cancellato quindi si tratta di essere anche un po' creativi del tipo come faccio il confronto come lo fa lui non mi piace come faccio a farglielo fare come voglio io ebbè a volte non riesco a farglielo fare come voglio io ma posso modificare gli input che lui vede in modo che il risultato finale sia quello che mi piace ok quindi sono operazioni di base che facciamo con le stringhe che usiamo essenzialmente molto spesso per andare a fare questi controlli sui dati iniziali che leggiamo ripetere l'ultima operazione assolutamente sì allora dicevamo replace sostituisce a una stringa cioè ricerca all'interno della stringa il primo argomento in questo caso uno spazio e sostituisce tutte le volte che trova questo spazio con quest'altra seconda stringa in questo caso questa seconda stringa è una stringa vuota attenzione non è l'insieme vuoto è una stringa insieme li vediamo più avanti sono una cosa diversa una stringa che contiene zero caratteri quindi va a cercare all'interno di questa stringa in questo caso John Wayne trova uno spazio e lo dice ok tolgo questo spazio questa sottostringa questa sottosequenza e la sostituisco con quest'altra quest'altra che cos'è è di zero caratteri e quindi alla fine l'effetto netto è che si appiccica tutto quindi questo è il modo per sopprimere un certo tipo di carattere o una sequenza di caratteri se dovesse succedere un'altra cosa che si fa molto spesso quando vediamo dei test è sostituire due spazi con uno spazio a volte c'è un testo che per errore uno ha battuto due volte la testa spaziatrice quindi ci sono gli spazi irregolari allora ogni volta che trovi due spazi sostituisci con uno spazio solo operazioni di questo genere ok l'altra cosa beh sulla partibilizzazione in realtà ne abbiamo già parlato abbiamo già lavorato parecchio ecco l'altro argomento per chiudere oggi cambiando un po' saltando un po' alla slide 7 quindi torniamo all'inizio delle slide della lezione 2 dell'unità 2 no 3 scusate ma su questo non voglio entrare troppo in dettaglio perché sono sicuro che a un certo punto qua saltano fuori 12.000 domande e taglierò un pochino corto perché è un argomento un po' diciamo così che si presta a tanti diciamo così dettagli ma poi in realtà non è poi così importante ecco è molto meno importante dell'input prima di farlo rispondo ad Emanuele nel senso che si può dividere una stringa in più stringhe però per farlo ci servono le liste perché quando divido una stringa in più stringhe avrò una lista di stringhe questa è una cosa che vedremo tra due settimane quindi lo sapremo fare tra due settimane per ora no allora l'output formatato qual è il problema il problema è stampare in modo ordinato che noi vogliamo stampare qualche cosa magari possibilmente in modo ordinato esempio molto semplice partiamo da questo esempio immaginiamo di avere un programmino scemo che calcola l'area di un di un cosa sta roba di un cerchio ok quindi conosco il raggio beh pi greco lo conosciamo già 314 il raggio vale 2 qui ho scritto r vale 2 immaginatevi sempre input r cioè l'utente che mi inserisce il valore del raggio ok e poi calcolo l'area che sarà r al quadrato per pi greco pi greco r quadro va bene quando devo stampare il messaggio l'area del cerchio di raggio tot e tot come posso fare beh un modo è quello di fare una print in cui vedete che in questa print mescolo un messaggio con un valore numerico con un altro pezzo di messaggio con un altro pezzo di valore numerico ok allora proviamo a farlo tanto per cambiare prendiamo PyCharm così cambiamo un po' anche strumenti e ci abituiamo a usarli tutti quindi lo chiamiamo stampe ok quindi noi calcoliamo in realtà noi sappiamo già che possiamo importare mat il modulo mat e quindi possiamo prendere il valore di pi greco direttamente dal modulo mat e quindi abbiamo input r raggio due punti r lo salvo in r e quindi potrò stampare print facciamo in italiano la questione è una lezione il l'area l'area ma ho messo l'appostrofo quindi metto gli apici doppio l'area del cerchio di raggio r qui devo chiudere l'appice doppio vale area devo calcolarlo l'area l'area uguale pi greco quindi mat punto p per r alla seconda vale area e però ci concentriamo sulla stampa quindi proviamo a eseguirlo lui mi stamperà che se il raggio va alle due che cosa ho fatto ah no scemo flotte perché questo ecco questo errore qua cosa mi dice attenzione che in questa operazione di moltiplicazione o di di un aumento potenza c'è un operando del tipo sbagliato str e int lui sta dicendo guarda che questo operatore potenza questo l'ha applicato a due operandi il cui primo è di tipo stringa e il secondo è di tipo intero perché ma perché quando ho letto la input mi ero dimenticato che la input mi restituisce sempre una stringa e avevo dimenticato di convertire la stringa in numero reale e quindi qui stavo cercando di fare l'elevamento potenza di una stringa che non è una cosa normalmente permessa ok quindi questo type error qua derivava dal fatto che r era letto come stringa e non letto come numero reale ok adesso ci riprovo raggio 2 l'area del cerco di raggio 2 vale 12,56 e così via questo va bene lo stesso mettere int no perché se io volessi fare l'area del cerchio di raggio 1,5 perché non lo scrive là 1,5 voglio che me lo calcoli come 1,5 quindi 1,5 alla seconda se io mettessi un int al posto del float mi troncherebbe l'1,5 a 1 che probabilmente non è quello che voglio perché sto facendo i calcoli sui cerchi e non voglio solo considerare i cerchi il cui raggio sia un numero intero quindi in realtà va bene lo stesso nel senso che il programma funziona sì però il programma non fa la cosa giusta perché arrotonderebbe il raggio all'intero più piccolo e non prenderebbe il vero valore reale del raggio ok allora il problema qual è? il problema è come stampiamo queste cose nel senso che qui abbiamo vedete che c'è un messaggio mescolato un numero mescolato un altro messaggio mescolato un altro numero tra la fine del messaggio e l'inizio del numero la print mette uno spazio lo mette lei tra il numero e l'altro pezzo di messaggio anche c'è un altro spazio c'è un altro spazio e così via quindi uno la print mette delle cose che io non gli ho detto e quindi potrebbero piacermi potrebbero non piacermi due l'area sì sì me la stampa me la stampa con tante cifre ma magari a me ne servono solamente due tre di cifre soprattutto se dovessi incolonnare dei dati dovessi scrivere uno sotto l'altro vorrei che fosse a tutti con lo stesso numero di cifre e così via quindi vorrei avere un pochino di controllo in più su come viene stampato questo messaggio Lorenzo mi dice ah tu però non mettere la virgola qua metti il più no l'idea è buona nel senso che anziché fare stampare scusate faccio la duplico qui sto chiedendo la print di stampare quattro cose messaggio R messaggio area e voi mi dite ma se tu usi la più stai creando un'unica stringa te la costruisci tu come ti piace questa unica stringa e poi la stampi va bene però va bene fino a un certo punto perché questa istruzione dà errore perché dà errore perché sto facendo la somma il più tra una stringa e un float e quindi non è permesso devo fare la somma di numeri oppure la somma di stringhe in questo caso sono somma di stringhe quindi dovrò prima prendere questo float e convertirlo in stringa allora in questo caso non dovrebbe più darmi errore sempre raggio 2 e vedete che questi spazi che metteva prima la print adesso qua non ci sono più peccato erano tanto bellini magari li rimettiamo ma a questo punto li rimetto dentro come parte del mio messaggio quindi sono io che decido di metterli ok se anziché spazi volessi che ne so mettere delle parentesi tonde dei due punti dei trattini per delimitare il numero lo posso fare perché adesso io ho il pieno controllo però quello che capita è che nel nostro programma questa istruzione qua è molto due problemi uno questa istruzione è molto poco leggibile apro le virgolette le chiudo le riapro le richiudo ci metto dentro un valore converting string dopo un po' è una cosa noiosa e poco leggibile secondo problema è che comunque il controllo sulla formattazione dei numeri non ce l'ho perché la str mi crea una stringa che è esattamente uguale a quella stringa che avrebbe stampato la print allora per questo qualcuno dice ma sì ma all'ora dell'area fai un round prima così ti stampa solamente due numeri certo è anche possibile io potrei fare round di area virgola 2 e quindi me lo arrotonda solamente a due cifre decimali sempre raggio 2 e mi stampa 1257 e diventa ancora meno leggibile ok dove poi il succo di questa istruzione qual è? è che sto stampando R e sto stampando area ma per stamparle in modo ordinato devo casinarle ok scusate il termine tecnico allora python ci offre troppe ben tre modi diversi di semplificarci la vita in questo modo permettendo in qualche modo di inserire direttamente all'interno del messaggio da stampare dei caratteri speciali dei codici speciali che possono assumere forme leggermente diverse per inserire già il valore dentro la stringa in modo che sia più leggibile essenzialmente è puramente una questione di leggibilità e questi metodi sono tre l'operatore di formatazione per cento il metodo format e le f string io personalmente preferisco le f string però vediamo brevemente il primo e il terzo il metodo format alla fine è una variante è una via di mezzo dei due quindi non stiamo ad approfondirlo ma anche perché appunto stiamo discutendo un problema estetico quindi non è che dobbiamo impazzire allora l'operatore di formatazione è un operatore che si applica alle stringhe e sulla sinistra ho una stringa che contiene dei codici particolari al suo interno sulla destra ho una sequenza di valori raccolti tra parentesi tonde di fatto tecnicamente sarebbe una tupla ma questo lo vediamo più avanti raccoglie una serie di valori e questi valori andranno a sostituire uno a uno gli specificatori di formato che abbiamo detto prima spiegato così non si capisce niente ma per esempio è una cosa relativamente banale cioè noi cosa vogliamo stampare vogliamo stampare un messaggio mi concentro sul messaggio il messaggio è l'area l'area del cerchio di raggio m e vale m e dietro questa m ci dovrò mettere dei valori numerici allora io posso usare un codice particolare che in questo caso è percento f percento perché introduce il codice particolare f perché è un floating point è un numero reale quindi questo è il messaggio è chiaro da leggere dove ci dite qui a un certo punto qui al posto di non mi stamperà percento f mi stamperà o meglio così me lo stamperebbe ma non è quello che voglio io voglio sostituire a questi percento f un valore effettivo e questo è il lavoro che fa l'operatore di formattazione che guarda caso si chiama anche lui percento quindi in questo caso gli passerò dopo l'operatore una coppia di parentesi r virgola area quindi raggio 3 l'area del cerchio di raggio 3 a punto 0 vale 28 punto 27 quindi che cosa ha fatto qua Massimiliano ha riconosciuto le vestigie della printf qua dentro cosa è successo qua il primo dei valori che è stato passato r viene sostituito al posto del primo specificatore di formato il secondo valore area viene sostituito al posto del secondo e così via e vedete che la formatazione è leggermente diversa perché vale con le regole applica le regole che che sono definite per questo specificatore di formato che si chiama percento f quindi da un lato abbiamo separato qual è il messaggio da stampare rispetto ai dati che vogliamo stampare i dati sono più leggibili sono più visibili sono messi lì dall'altro abbiamo un comando che mi dice come li voglio stampare e come li voglio stampare in realtà dietro questa semplice percento f in realtà ci sono molti caratteri diversi quindi se voglio stampare una stringa in un certo punto scriverò percento s se voglio stampare un intero scriverò percento d se voglio stampare percento f un numero in floating point e poco altro essenzialmente ma la cosa carina ad esempio con il numero in floating point posso tra il percento e le f mettere un punto e il numero di cifre che mi interessano quindi se io volessi stampare tutti questi numeri con due cifre decimali scriverei punto 2 punto 2 quindi sto dicendo io qui voglio inserire un numero floating point con due cifre decimali e questo numero è R e quindi alla fine mi ristamperà tutti con due cifre decimali sia che ce l'avessero o che non ce l'avessero le cifre decimali principali precedenti quindi il vantaggio rispetto alle altre forme è chiaramente che io riesco qua a avere un controllo più fine sulla formattazione mentre invece nei casi precedenti mi devo accontentare della formattazione che mi dà Python normalmente quando converte i caratteri in string è qui che le cose si complicano nel senso che c'è tutto un mini linguaggio in pratica di come costruire questi specificatori di formato ad esempio per 102f mi dice due cifre dopo la virgola se io avesse un numero davanti a questo punto tipo questo 10 mi dice sì però occupa 10 caratteri 10 spazi quindi se li volessi incolonnare vorrei che fossero tutti lunghi 10 spazi anche se il numero è piccolino ci aggiunge lui in automatico ci aggiunge degli spazi davanti perché io gli ho detto che in totale voglio 10 spazi e qua c'è tutte una io non mi ricordo se l'ho ho tutto diciamo così una casistica di regolette di carattere speciale che stanno tra il percento e il carattere che modificano ad esempio se io devo stampare una stringa normalmente percento s me la stampa allineata a destra se io la volessi allineata a sinistra ci metto un meno davanti e quindi me la allinea a sinistra quindi vedete che qua c'è una stringa 10 caratteri una stringa che occupa 10 caratteri allineata a sinistra seguita da un numero floating point che occupa 10 spazi in totale allineato a destra di cui due cifre dopo la virgola 10 spazi sono il totale il numero che mettiamo subito dopo il percento è la lampiezza totale minima tra l'altro è più complicato perché se la stringa fosse più lunga non la taglia la fa crescere e per quello che io dicevo qua se uno vuole entrare nel dettaglio di tutto ci sono tre pagine fitte solo di spiegazione di tutti i casi particolari di questi operatori di formattazione e noi non è che vogliamo impazzire su questo perché non è che concettualmente ci sia un gran che di difficile è solamente un mini linguaggio diciamo così dentro la stringa di formattazione che ci permette di controllare in modo più fine come vengono convertiti i numeri qui ci sono altri esempi di string di formattazione possibile ok ma come dicevo non vogliamo impazzire interessante domanda è Alessandro che mi dice ma al posto del 10 del 2 posso mettere delle variabili no in questo caso no per mettere le variabili dovrei costruire la stringa prima mettendo il numero al posto delle variabili in C c'era l'asterisco per andare a pescare una variabile ma non credo che in Python sia rimasto questo e vabbè e questa è la formattazione classica in Python con l'operatore per 100 più recentemente dal Python 3.7 se non sbaglio in avanti hanno introdotto una semplificazione secondo me notevole che permette di diciamo così rendere la stringa più intelligente che si autoformatta fatemelo dire male così e le cosiddette f string sono string formattate string che sono capaci di formattarsi da sole come? beh innanzitutto come fare a costruire una f string semplicemente prendo una stringa normale ma quando la definisco dandole virgolette ci metto davanti una lettera f subito attaccata alle virgolette e lo vediamo un esempio f aperte virgolette f aperte virgolette f aperte virgolette quindi rimane appiccicata questa stringa non inizia con aperta virgoletta o aperta o apice ma inizia con f aperta virgoletta ma vabbè una sintesi un po' strana le stringe che iniziano così accettano al proprio interno e capiscono le parentesi graffe normalmente la parentesi graffe in una stringa viene stampata così com'è se è una f stringa la parentesi graffe viene sostituita con il valore della variabile semplice o anche dell'espressione aritmetica che mettiamo proprio dentro le parentesi graffe quindi in questo caso nel nostro esempio potremmo scrivere print partiamo sempre dall'idea che avevamo l'area del cerchio di raggio tal dei tale vale tal dei tali e qui anziché diciamo dei simboli criptici col percento usiamo delle parentesi graffe cosa mettiamo dentro le parentesi graffe? mettiamo i nomi delle variabili da stampare quindi direttamente r e area questo funziona se ci metto davanti una f se io non metto davanti la f lui mi stamperà indovinare un po' cosa esattamente quello r e area ma se ci metto la f davanti tra l'altro si vede anche che cambia colore perché le le parentesi graffe vengono interpretate e al posto della parentesi graffe viene inserito il valore della variabile il valore che in quel momento ha la variabile quindi la formattazione anziché farla col percento eccetera basta metterci una f davanti e il nome della variabile tra parentesi graffe a me sembra quello più semplice chiaramente è esattamente uguale al primo se non faccio nulla di particolare ovviamente anche a quest'ultimo metodo posso applicare gli operatori di formattazione quindi ad esempio se volessi due cifre decimali posso specificare dopo il nome della variabile il numero di cifre decimali o gli altri modificatori allora se siete tutti in ansia per le parentesi graffe sulla tastiera italiana sapete come fare la parentesi quadra se sapete come fare la parentesi quadra premete il tasto di maiuscola e fate la graffa usando la stessa sequenza di tasti che usate per la parentesi quadra di solito quindi è maiuscolo alt grafico parentesi quadra dove ci sono le accentate da quelle parti lì poi fate come me che comprano solo tastiere americane quindi non avete questi problemi no ma non fate alt 1 2 3 che impazzite anche perché non sempre funziona shift alt grafico e accentata e di dalla parentesi sulle due accentate c'è l'aperta e chiusa quadra che fate con l'alt grafico ci aggiungete la maiuscola in più lo shift in più e vi danno le graffe ok quindi risolto questo problema esistenziale delle graffe se io volessi cambiare la formattazione la potrei fare con questa volta un simbolo di due punti e poi in questo caso punto 2f quello di prima area due punti punto 2f questi due punti servono per separare il nome della variabile dal formato in cui lo voglio punto 2f invece è il formato e qui è esattamente lo stesso che avevo qui la stessa identica regola la stessa identica regola di formattazione che valevano per l'operatore di formattazione valgono anche per le f string e quindi qua raggio 2 ovviamente me lo stampa con due cifre decimali ok quindi se a me non interessa la formattazione semplicemente è molto comodo scrivere un f string interpolo i valori e semplicemente viene inserito il nome delle variabili è più compatto ed è più leggibile secondo me se mi serve la formattazione ci aggancio in due punti e vado a giocare con le varie regolette di formattazione l'f string Michele mi dice l'f string non accetta il meno il meno funziona solo con s con due punti meno s con f non funziona il meno perché i numeri non ha senso lineare a sinistra ma solo a destra con il per cento funzionava se me lo dici ci credo interessante la domanda di Massimiliano che mi dice ma quale di questi modi di stampare è meno pesante per il computer chi è che ha un cartello con scritto chi se frega a me non interessa tanto che il computer ci metta un microsecondo in più o in meno a fare un'operazione banale come stampare a me interessa che quel codice lì che a me ha costato magari 5 minuti per pensarlo magari anziché 5 me ne costa 4 e quando lo vado a rileggere ci metto la metà del tempo a capire ciò che fa il codice e ciò che fa il programma perché il tempo vero che dobbiamo ottimizzare è il tempo del programmatore e il numero di errori che il programmatore fa poi l'efficienza è importante viene per ultima però l'efficienza mai cominciare a pensare di ottimizzare un programma finché il programma non è finito e funzionante e poi ancora perché se è finito e funzionante e comunque gira in tempi ragionevoli basta va bene finito lì se è finito e funzionante ma troppo lento allora posso andare a chiedermi dove andare a ottimizzarlo ma mai prima ok l'ottimizzazione prematura è la madre di molti mali di programmazione perché ti fa fare cose più contorto perché devi pensare per il computer il computer pensa a se stesso tu pensa a te pensa a scrivere un programma chiaro e comprensibile e soprattutto corretto ok sul lato del predicozzo però ci sono dei contesti in cui è importante andare a pelare il microsecondo se stai facendo un videogame se stai facendo un sistema embedded eccetera eccetera però in programmi di questo genere non ha senso non serve o se serve ce ne occupiamo in un secondo momento detto ciò il più lento è questo sicuramente il secondo perché tra l'altro non ci verrebbe mai in mente gli altri grossomodo sono equivalenti perché le operazioni che lui deve fare alla fine sono le stesse se vogliamo il secondo e il terzo diciamocelo sono due modi diversi di scrivere la stessa cosa la sintesi è un pochino più semplice ma alla fine l'operazione che il computer fa è la stessa e è quella di chiamare la funzione sprintf nella libreria c sottostante ok quindi per questo che come vi dicevo qua sono meandri non molto profondi in cui uno se vuole ci si può perdere diciamo così il riassunto se vogliamo comparativo di questi due modi semplicemente due modi diversi di scrivere la stessa cosa io trovo più comodo quest'ultimo perché è più esplicito che in questo punto metto il valore di questa variabile ricordiamoci che non solo una variabile posso anche mettere un'espressione quindi addirittura io potrei scrivere al posto di questo potrei direttamente scrivere non area ma mat.p per r al quadrato e mi calcola se tutto va bene esattamente la stessa espressione però attenzione che qua non siamo più tanto leggibili all'esame si viene penalizzato e mi scrive Filippo già ansioso per l'esame se si usa il metodo classico senza formattazione tutti in coro la risposta che danno gli ingegneri dipende la risposta è sempre dipende per qualunque domanda vi facciano dipende dal testo se nel testo ti dice esattamente di scrivere i numeri incolonnati e quindi di fatto quello dell'ordinamento diciamo così l'ordine dell'incolonnamento eccetera la formatazione dell'output è un requisito del problema allora è chiaro che va fatto così se nel testo ti dice stampa sti numeri senza darti delle specifiche ulteriori su come debbono essere stampati allora è chiaro che non è richiesto e fai tranquillamente ciò che vuoi scegli tu la strada che vuoi se noi siamo furbi e pigri scegliamo la strada che ci costa di meno cioè non pensiamo al problema quindi se è un requisito va ovviamente soddisfatto se non è un requisito lasciamolo così non è che la prima riga mi desse poi così tanto fastidio non mi viene a strapparmi le veste perché ho stampato questa cosa qua vabbè se ho un po' troffe cifre decimali col senno capisco che non servono tutte finisce lì ok quindi solamente se è richiesto se è necessario se utilizzo la f come si fa a decidere la larghezza della stringa mi chiede Christian la larghezza della stringa nel senso di di una stringa che viene inserita al suo interno non ho capito la domanda onestamente se mi riesci a fare un esempio e nel frattempo mi preparo le altre slide per allenare a sinistra e lasciare spazi vuoti si può fare esattamente nello stesso modo col percento prendiamo una console qua dentro se io scrivessi una stringa nome uguale John Wayne io creerei una stringa potrei creare una stringa attore uguale nome ok e mi scrive attore uguale John Wayne inserendo al posto delle graffe il nome se questo nome lo volessi di 20 caratteri scriverei 20s e in questo caso me lo allinea a sinistra quindi vedete che aggiunge degli spazi fino a quando non c'è fino a quando non aggiunge 20 caratteri in totale forse col meno 20s me lo allinea no non funziona infatti aveva ragione qualcuno di voi prima che non funziona e quindi non si può fare con questa modalità qua quindi dovrei al limite prima formattarmi il nome aggiungersi aggiungere gli spazi davanti in quantità opportuna oppure magari si può magari non è detto che si però col meno 20s pensavo si potesse evidentemente infatti qualcuno di voi l'aveva già trovato prima che non funzionava ed effettivamente abbiamo verificato che non funziona se lo dovessi fare davvero però non possiamo fermarci a dire non funziona ok questo modo non funziona se io volessi davvero scrivere John Wayne che occupa 20 spazi ma allineandolo a destra come potrei fare? innanzitutto potrei dire quant'è la lunghezza di John Wayne? 10 quindi quanti spazi mi mancano? 10 quindi io potrei costruire una stringa che è fatta da 10 spazi spazio per 10 più nome e quindi mi da una stringa con John Wayne fatto così ovviamente 10 non è una costante perché dipende dalla lunghezza del nome se un nome è più lungo dovrò mettere meno spazi se un nome è più corto dovrò mettere più spazi e quindi al posto del 10 scriverò scriverò 20 meno la lunghezza del nome e questo mi da esattamente questo quindi ho una stringa fatta di tanti spazi quanti servono per mettere davanti al nome in modo tale che la lunghezza massima la lunghezza totale sia esattamente 20 posso creare una stringa con 20 spazi vuoti il problema è che non mi servono 20 ma me ne servono meno di 20 quindi creare una stringa con 20 spazi vuoti è facile spazio per 20 però io ogni volta devo crearne la quantità giusta in funzione di quanto è lungo il nome quindi ad esempio io creo 20 meno la lunghezza del nome se il nome è lungo 5 20 meno 5 sarà 15 spazi davanti se il nome è lungo 15 20 meno 15 fa 5 metterà 5 spazi davanti e così via quindi come sempre se c'è una soluzione che mi da già la libreria di Python bene al primo colpo la faccio funzionare se non c'è devo comunque sapermi ingegnare per riuscire a raggiungere il risultato e quindi in questo caso diciamo che rispetto al nostro esercizio di prima chiamiamolo il nome lungo con gli spazi davanti lo chiamo così e quindi il mio la mia f stringa ci stamperò il nome lungo anziché del nome in questo caso me lo stampa così con gli spazi oppure Sebastiano dice perché devi impazzire con le f stringhe perché l'allineamento sinistra non funziona usa la formattazione col percento è anche vero quello assolutamente no Andrea non ti sei spiegato nel senso che almeno io non ho capito che cosa intendi con due stringhe allineate a destra ma con lettere iniziali allineate nel senso che se hanno lunghezza diversa non possono essere lettere iniziali e anche quelle finali allineate ok ma io come dicevo prima so che qua saltano fuori domande e curiosità strane come faccio a formatare una cosa che salti i fossi e i tombini ma non vorrei che diciamo così spendessimo tutto il tempo per questa parte perché come dicevo è una parte utile ma non è poi fondamentale ci si diverte ma preferirei iniziare a introdurre il tema più grosso di cui ovviamente vista l'ora adesso vedremo diciamo il primo passaggio e poi ci occuperemo bene nella lezione di domani che è un costrutto nuovo che serve per costruire i cicli noi i cicli il concetto del ciclo già lo conosciamo dalle prime lezioni quando nei diagrammi di flusso abbiamo fatto in modo che una certa operazione si potesse ripetere ma al momento non siamo ancora capaci a esprimerlo in Python e questo lo diciamo così impariamo a conoscere in questa settimana in questa unità 4 4 sì l'unità 4 più 4 e iniziando a conoscere un nuovo costrutto costrutto del linguaggio Python che si chiama while qui anche qui chi arriva da altri linguaggi probabilmente riconosce che esisteva già una parola chiave simile io ho visto alcuni di voi provare a tentare a farlo in esercizi usando però la sintasi sbagliata la sintasi del C non si può veramente copiare in Python che cos'è l'istruzione while l'istruzione while serve per costruire come dicevamo un ciclo quindi in pratica un ciclo che cos'è un blocco di istruzioni che viene ripetuto più volte faccio più volte la stessa cosa faccio più volte la stessa cosa tendenzialmente ogni volta magari la faccio con valori diversi delle variabili e la faccio non all'infinito ma la faccio per un certo numero di volte oppure fino a quando non si verifica una certa condizione non si verifica una certa diciamo così situazione che mi dice va bene hai fatto ciò che dovevi fare adesso puoi fermarti questo diciamo così il concetto generale già l'avevamo visto quando parlavamo dei diagrammi di flusso e infatti un ciclo in generale noi lo possiamo vedere come un un corpo il blocco centrale che in questo caso qua si chiama B che è il blocco che deve essere ripetuto più volte quindi tutto un ciclo parte dalla prima domanda cos'è che devo fare più volte quali sono le istruzioni che devo ripetere più volte allora anziché fare copia e incolla e ripetere tante volte sotto le scrivo una volta sola e intorno costruisco diciamo così un ciclo un insieme di costrutti che permetta di ripetere queste istruzioni più volte attraverso e qui come dire la freccia torna indietro si ripete si ripete e si ripeterà molte volte in funzione di una condizione che qua è indicata con C questa condizione se è vera fa sì che il ciclo venga ripetuto se è falsa invece usciamo dal ciclo e andiamo a fare qualche cosa di diverso quasi sempre prima del ciclo ci serviranno delle istruzioni per inizializzare le variabili su diagrammi flusso ricordate l'abbiamo fatto guarda che attenzione che per contare quante volte capita una cosa devi inizializzare la somma a zero perché altrimenti quando all'interno del ciclo devi incrementare il valore iniziale il valore della prima iterazione è un valore sbagliato è un valore errato quindi questo è il tipo di diagramma di flusso che andiamo a costruire e lo costruiamo appunto in Python con l'istruzione while l'istruzione while è l'istruzione più generale per costruire dei cicli poi esiste anche un'istruzione for che viene usata più per scandire delle sequenze o dei insieme di valori predefiniti mentre la while è quella che funziona in senso generale quindi impariamo prima diciamo così il concetto di while e poi dopo lo applichiamo al e poi dopo vedremo anche l'istruzione for che invece è un pochino più specifica per alcuni casi particolari allora qui nelle slide ad esempio ci fanno un esempio che proviamo possiamo provare a guardare e dice guarda tu hai che è simile a uno degli esercizi che c'era in laboratorio in cui partivamo da un anno iniziale in cui in banca avevamo diecimila dollari o euro o sesterzi quello che volete e avevamo un interesse da un tasso di interesse del 5% all'anno ok e allora lui mi dice senti ma se il tasso di interesse fosse del 5% all'anno quanti anni devo lasciare i soldi sul conto affinché il capitale raddoppi quindi il saldo diventi pari a ventimila allora questo lo vediamo proviamo a implementarlo al volo almeno una parte ovviamente non ce la faremo finirlo bene ragionarlo bene fino in fondo ma possiamo partire allora abbiamo due 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 valori iniziali che sono appunto il saldo iniziale che è uguale a diecimila e il tasso di interesse che è il 5% quindi 005 come mi avete fatto notare c'era in laboratorio esattamente questo esercizio allora cosa dovevamo fare dovevamo ripetere per ogni anno l'operazione di calcolo del nuovo saldo quindi che il saldo nuovo era uguale al saldo precedente più il saldo per l'interesse e ogni volta passava un anno in più ok queste sono operazioni che io ad ogni nuovo anno devo fare incremento di uno gli anni che sono passati e incremento di una quantità pari all'interesse il saldo che mi trovo in banca questo è il nostro corpo del ciclo cioè cosa deve essere ripetuto per poter iniziare il ciclo io dovrò inizializzare variabili usate nel ciclo inizializzare con l sola cioè vedete che qua saldo e anno sono variabili che io sto aggiornando nel ciclo ma non hanno un valore iniziale infatti lui mi assegna come errore e dice ma arrivo qua si saldo cos'è cioè devo definire i valori che hanno queste variabili che evolveranno dentro il ciclo il valore devo definire il valore che avranno all'inizio la prima volta il primo anno la prima volta dentro il ciclo e quindi all'inizio chiaramente l'anno sarà zero perché non ha ancora fruttato il capitale e quindi il saldo del mio conto sarà uguale al saldo iniziale quindi qua diciamo che sono i valori usati al primo giro alla prima iterazione e poi ripetiamo più volte questa iterazione a questo punto scriviamo effettivamente l'istruzione while e come tutte le istruzioni come già la if che racchiugono un corpo di istruzioni la useremo con due punti a capo testo rientrato e così come la if dava una condizione che era la condizione sotto cui le istruzioni dovevano essere eseguite anche while richiede una condizione quindi prima dei due punti che ci dica qual è la condizione affinché il ciclo venga ancora eseguito cioè devo farlo ancora il ciclo oppure ho fatto già tutte le iterazioni che dovevo fare allora in questo caso l'esercizio mi diceva cerca fino a quando il saldo non raddoppia quindi io fino a quando il saldo è ancora minore del saldo iniziale per due e devo stare qua e continuare a far passare gli anni quando il saldo sarà maggiore o uguale al saldo iniziale per due allora non ho più bisogno di andare avanti fermo gli anni e stampo il risultato quindi alla fine dirò che print rientro a sinistra perché sono fuori dal ciclo print f usiamo la formattazione dopo anno anni il saldo sarà saldo e quindi in teoria sarà più del doppio del saldo iniziale quindi proviamo a vedere se funziona mi dirà che dopo 15 anni il saldo sarà 20.789 e spiccioli ok quindi dal punto di vista della sintassi è molto semplice abbiamo una parola chiave while che introduce l'iterazione introduce il ciclo dopo il while abbiamo come solito rientrato questo è un compound statement che abbiamo chiamato la volta scorsa un'istituzione composta e quindi rientrato a destra c'è il corpo che fa diciamo così che sottostà a questa iterazione che fa parte dell'iterazione e sulla riga del while abbiamo la condizione di iterazione condizione che è come una condizione di un if può essere vera o falsa se è vera il ciclo va avanti se è falsa il ciclo si ferma si ferma ma cosa vuol dire? vuol dire che anziché continuare a ripetere le istruzioni che sono dentro il corpo salterà alla prima istruzione dopo l'esecuzione del corpo stesso questo se ci fa piacere lo possiamo vedere passo passo in modalità debug e si vede che se io vado avanti passo passo vabbè qui ho i valori iniziali anno uguale a zero saldo iniziale uguale a zero qui entro nel ciclo questa condizione saldo minore saldo iniziale se saldo vale zero scusate saldo vale mille saldo iniziale per due tra ventimila è sicuramente minore poiché questa condizione è minore entra nel ciclo esegue questa istruzione esegue quella dopo e vedete che dopo la 12 non è andato alla 14 ma è tornato alla 9 perché essendo dopo dentro un ciclo lui ripete e ogni volta che ripete rivaluta la condizione ricontrolla questa condizione adesso saldo è diecimila cinquecento è ancora minore sì che è ancora minore quindi faccio ancora un'interazione fatta questa interazione torna su ricontrolla è ancora minore sì e torna su e torna su e torna da su noi lo sappiamo già perché abbiamo già fatto eseguire il programma fino a quando anno vale 15 vedete che anno si incrementa tutte le volte 9 10 11 12 13 14 attenzione anno vale 15 il saldo adesso quant'è 20.700 quindi questa condizione non sarà più vera perché 20.700 non è minore di 10.000 per 2 e quindi dopo aver fatto l'istruzione 11 12 tornato alla 9 salterà alla 14 cioè la prima istruzione dopo la fine del ciclo questo per 2 ricordiamoci perché il terzo esercizio ci chiedeva quando è che raddoppiamo il capitale iniziale 20.000 quindi questo 20.000 è 10.000 per 2 ok quindi come dicevo per il punto di vista sintassi è molto semplice dobbiamo solo ricordarci due cose chiave ma poi ovviamente riprendiamo facendo esercizi bene domani una è tutte le variabili che usiamo dentro il ciclo dobbiamo sempre chiederci sì ma la prima iterazione quanto valgono cioè dobbiamo chiederci come le posso inizializzare la seconda cosa che dobbiamo chiederci è sì ma questa condizione qualcuno la farà diventare vera prima o poi o siamo condannati a girare all'infinito qualcuno farà diventare falsa prima o poi o siamo condannati a girare all'infinito qua dentro che è un altro modo per dire che è necessario che dentro il corpo del ciclo ci siano istruzioni per modificare in questo caso saldo cioè le variabili di controllo del ciclo stesso perché se io avessi se mi fossi dimenticato di scrivere questa istruzione e quindi l'avessi cancellata questo guai andrebbe avanti all'infinito anno lo incrementa sempre ma la condizione mi dice che saldo è minore del saldo iniziale è sempre vero perché saldo non ho cambiato quindi devo sempre preoccuparmi come faccio a entrare nel ciclo l'inizializzazione delle variabili e come faccio a uscire dal ciclo cioè come faccio a aggiornare la condizione in modo che prima o poi mi dica ho finito ok rispondo ancora alla domanda di Lorenzo poi vi lascio andare e ovviamente questo lo riprendiamo per bene interesse dovremmo scrivere maiuscolo perché è costante sì è possibile in realtà su questo esercizio non è chiaro non è specificato bene quali sono le costanti da assumere sempre uguali e quali sono i dati invece da leggere in input qui probabilmente avrei dovuto sì è saldo iniziale uguale int di input dell'utente eccetera eccetera però qua ci stiamo concentrando su queste istruzioni quindi per velocità ho buttato dentro dei valori ok altrimenti il testo ovviamente dovrebbe essere più preciso su quali sono i valori da assumere come costanti e quali sono i valori invece da acquisire dagli utenti in modo interattivo e bravo dipende l'abbiamo capito però non è non deve fermarsi a dipende dipende virgola e poi c'è la spiegazione va bene ci sono altre domande oppure siete stanchi e vogliete continuare domani rispondo ad Alessio che mi chiede nell'esame dovremmo analizzare ogni tipo di errore no nel senso che ci sono alcuni tipi di errori che sicuramente vanno controllati soprattutto quelli dell'input dell'utente però nell'ultima unità del corso impareremo un modo abbastanza snello di poter catturare gli errori e poter terminare il programma in modo ordinato quando si verifica un errore quindi per ora in qualche modo un pochino sfumiamo però ci sono degli errori semplici che sono gli errori di input dei dati che devo controllare ci sono gli errori invece degli algoritmi gli errori logici e quelli sono i più difficili da controllare attirano meno l'attenzione però sono quelli in realtà più gravi più importanti quindi gli errori logici dovremo effettivamente trovare cercare di evitarli tutti gli errori di formattazione di input tutto sommato sono parti più estetiche e meno logiche quindi si può anche sorvolare anche perché se uno le dovesse catturare tutti veramente impazzisce non ce la fa va bene vi lascio altrimenti mi sgridate perché le lezioni diventano troppo lunghe e riprendiamo domani con Francesco dico che nelle lezioni normali no ma stiamo preparando delle lezioni concine extra per chi vuole approfondire vari aspetti ma non voglio farvi anticipazioni buona serata a tutti e ci vediamo domani mattina grazie a tutti grazie a tutti